Buonasera, nuovo spazio dedicato all'informazione dal territorio. Salita esponenziale dei positivi al Covid-19 nella regione Veneto. Il bollettino di mercoledì mattina ha indicato 1.422 casi in più in un giorno. Il numero è preoccupante, non era così elevato dai tempi della prima emergenza. Il Presidente della regione ha disposto l'attuazione di tutte le misure sanitarie atte a contenere la diffusione. Di ieri la notizia dell'attivazione del nuovo piano sanitario mirato alle varie attività degli ospedali a seconda dei vari stadi di alert. Intanto a Schiavonia si sta ridisponendo il montaggio dell'ospedale donato dal Qatar al Veneto. E in Lombardia invece coprifuoco dalle 23 alle 5 a partire da giovedì 23 ottobre. Consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o urgenza. Ovvero per motivi di salute in ogni caso consentito rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza e autodichiarazione per certificare gli spostamenti. Sono le misure contenute nell'ordinanza emanata oggi in Lombardia e firmate dal Ministro della Salute Roberto Speranza e dal Presidente della regione Fontana, valida fino al 13 novembre. E le città si stanno organizzando con le varie amministrazioni per adottare vari provvedimenti. A Padova, dopo una riunione tra amministrazione, prefettura e questura, sembra prevalere la linea del divieto di consumo di bevande di qualsiasi tipo, se non al tavolo dei locali che lo consentono. Questo al fine di contenere eventuali aggregazioni. Al momento viene esclusa la chiusura di strade o piazze e la situazione resta comunque costantemente monitorata. Dobbiamo parlare di incidenti stradali. Andiamo in provincia di Vicenza, dove un'auto questa mattina è finita fuori strada. Alla guida c'era un uomo di 72 anni che purtroppo ha perso la vita. Incidente in provincia di Vicenza a Barbarano Mossano. Un'auto è finita fuori strada dopo aver toccato un altro mezzo. La macchina ha terminato la sua corsa dentro al fosso che costeggia la strada. Il conducente, che potrebbe essere stato colto da un malore, è stato assistito prima dall'arrivo dei soccorsi da un vigile del fuoco di passaggio insieme ad altri carabinieri dell'ispettorato del lavoro, pure loro in transito. Sul posto sono arrivati i pompieri dall'onigo che hanno estratto l'uomo dalla Fiat Punto e hanno iniziato la rianimazione cardiopolmonare fino all'arrivo del personale sanitario del SUEM. Purtroppo il medico ha dovuto constatare la sua morte. Il laser conducente dell'altra macchina. I carabinieri e la polizia locale hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. E adesso vi raccontiamo un episodio di aggressione avvenuto a Padova. Un sedicenne tenta di rapinare un monopattino in piazza dell'Erbe aggredendo il proprietario con lo spray al peperoncino. Questa persona è stata inseguita e arrestata dalla polizia. È successo ieri pomeriggio una pattuglia della sezione volanti della questura di Padova tratto in arresto un tunisino pluripregiudicato. L'accusa nei suoi confronti è tentata rapina ai danni di un cittadino italiano in piazza dell'Erbe. La chiamata al 113 è arrivata da parte di un poliziotto che libero dal servizio stava osservando la scena. Lo straniero dopo essersi impossessato del monopattino e aver spruzzato lo spray urticante negli occhi del suo proprietario ha tentato la fuga ma la gente lo ha inseguito fornendo tutte le indicazioni ai colleghi. La volante ha dunque raggiunto il malvivente e lo ha bloccato in piazzale in surrezione dopo che era scappato. Nel frattempo un'altra volante si è portata in piazza dell'Erbe dove ha raggiunto la vittima della rapina. I poliziotti gli hanno fornito il kit decongestionante per gli occhi irritati e poi lo hanno accompagnato al pronto soccorso. Lo straniero è stato sottoposto ad un esame osseo ed è risultato avere 16 anni. è stato arrestato e portato presso il centro per minori di Treviso. Nelle prime ore del pomeriggio di ieri sempre la polizia a Padova ha arrestato una donna bulgara senza fissa dimora per borseggio ai danni di una padovana di 50 anni. Alle due sulla linea del 113 è arrivata una chiamata da parte di un cittadino che segnalava una borseggiatrice in fuga. L'uomo sentendo la signora urlare e capendo quello che stava intervenendo si era messo all'inseguimento della malvivente e così è riuscito a mantenere il contatto con il 113. La straniera ha cercato rifugio in un ristorante facendo perdere per un attimo le sue tracce ma in poco tempo gli agenti sono arrivati sul posto e si sono messi alla ricercatrice della borseggiatrice riuscendo a rintracciarla e bloccarla in largo Europa. La donna è stata accompagnata in questura e poi arrestata per furto. Dobbiamo adesso parlare di un altro incidente, uno scontro grave tra tre camion questa mattina in autostrada che ha costretto anche alla chiusura del tratto per permettere i soccorsi. A scontrarsi tre camion dei quali uno ha preso fuoco, ferito il conducente che è rimasto ustionato. Guardate. Incidente stradale tra tre mezzi pesanti in autostrada. Sul tratto tra Porto Gruaro e Sanstino i camion si sono scontrati e uno immediatamente preso fuoco. A bordo del mezzo, avvolto dalle fiamme, l'autista è rimasto ustionato ed è stato trasferito all'ospedale dagli uomini del 118. Il tratto dell'A4 è stato chiuso al traffico e sul posto hanno lavorato i pompieri arrivati da Porto Gruaro, San Donà e Motta di Livenza, assieme al personale ausiliario dell'autostrada e alla polizia. Le cause dello scontro sono da ricostruire in base ai rilievi effettuati dalla polstrada. Domani a Padova parte auto e moto d'epoca, ma le camere negli alberghi cittadini sono purtroppo ancora libere. A darne notizia Monica Soranzo, presidente degli albergatori di Padova Hotels Federalberghi, Ascom Conf Commercio. La situazione è drammatica ed è peggiorata con ulteriori disdette in questi giorni dopo l'andamento generale. Gli scorsi anni, ha spiegato Monica Soranzo, le fiere e le mostre portavano numerose presenze, mentre quest'anno la situazione è completamente differente. La normalità sembra ancora distante, dice. Anzi, come ha rivelato l'indagine Cervi, delle medie città venete e lombarde saranno quelle che pagheranno il conto più elevato, non solo in termini di fatturato, ma soprattutto di occupazione. Continuiamo con altre notizie ancora dalla città di Padova. È stato rinviato a gennaio uno degli appuntamenti più amati dagli sportivi padovani, quello con la Corri per Padova. Abbiamo condiviso la decisione con Questura, reparto mobile con Marciapadova e Fiasp, che da sempre collaborano con l'organizzazione, spiega l'assessore allo sport Diego Bonavina. Tutti vorremmo partire subito con una delle manifestazioni più amate, ma la responsabilità spiega, al di là di quelle che potranno essere le prossime decisioni del governo, ci porta a rinviare la Corri per Padova. A fine gennaio, spiega l'assessore, verrà fatto il punto, nella speranza che la situazione consenta di tornare a correre tutti assieme. e adesso invece vi raccontiamo un intervento insolito eseguito dai vigili del fuoco a Verona, che hanno salvato un gatto, un gatto curioso, che pensate, per guardare, per cercare qualcosa, era rimasto con la testa incastrata in un legno. Guardate. Singolare intervento per i vigili del fuoco di Verona, che nel pomeriggio del 20 ottobre sono intervenuti presso l'aviosuperficie di Boscomantico per salvare un felino troppo curioso. Per la precisione, i pompieri veronesi sono intervenuti nei pressi del bar dell'aeroporto, dove un gatto aveva infilato la testa nel foro di una struttura d'arredo del giardino. Con cura, la squadra ha sportato alcune parti in legno che imprigionavano il gatto, che poi ha potuto tornare a correre libero per il prato. E adesso uno sguardo alle condizioni meteo previste per la giornata di domani, giovedì. Nella prima metà di giornata il cielo sarà poco, parzialmente nuvoloso. Fino all'alba, nebbie sparse a sud dell'asse Verona-Treviso, i locali sul resto della pianura e nelle valli prealpine, in dissolvimento al mattino. Dal pomeriggio il cielo sarà parzialmente nuvoloso, di sera nebbie i locali a sud dell'asse Verona-Treviso. Erano queste le ultime notizie dal territorio Veneto. Vi invito a rimanere con noi tra poco. L'informazione nazionale. Arrivederci a domani. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS